buongiorno a tutti allora giubbino giubbino sargio tacchini da benzinaio come vi diceva qualcuno quando è iniziato a fare lo youtuber ormai siamo quasi a quattro anni è domani che è il ben anzi siamo a quattro anni esatti il 21 di novembre è stato del 2017 ho fatto il mio primo video siamo nel 2021 sembra ieri passati già quattro anni va beh comunque ragazzoli gran premio di formula 1 del qatar qualifiche q1 e quando mancano nove minuti e mezzo dalla fine del q1 c'è da segnalare che mazepin con tempo altissimo e poi sunoda mick schumacher alonso con senza nemmeno un tempo valido stanno rischiando di non prendere parte al q2 se per i due piloti assai me è quasi una consuetudine per gli altri quattro come si dice anche no ma però c'è tempo manca nove minuti e mezzo hanno tutto il tempo per recuperare per quanto riguarda i primi per ora il miglior tempo è di hamilton davanti a bestaffen norris bottas e perez appena dietro le due ferrari di leclerc e sainz a quattro minuti dalla fine del q1 i piloti esclusi cambiano completamente sono latifi sedicesimo raikon è diciassettesimo giovinazzi diciottesimo mick schumacher diciannovesimo mazepin ventesimo il miglior tempo è di bestaffen che ha un vantaggio si fa per dire di 20 millesimi su bottas e di 23 millesimi su hamilton gli altri sono un attimino più staccati è lotta serratissima comunque al termine del q1 i piloti esclusi sono ahimè raikonen latifi giovinazzi mick schumacher e mazepin come prima più di prima burbu come spesso succede le due as le due alfa romeo e una williams sono sempre loro le tre scuderie peggiori che si rimpallano le ultime posizioni della della griglia di partenza inizia il q2 vediamo chi saranno i magnifici dieci che si giocheranno la pool position su 11 auto in pista 8 montano gomma gialla e 3 la rossa in attesa di vedere le due alpine e le due aston martin che gomme decideranno di mettere a sette minuti e mezzo dalla fine con tutte le auto in pista c'è da segnalare che otto vetture montano gomma gialla e 7 la rossa e il miglior tempo per ora è di emilton che tra l'altro l'ha fatto con gomma gialla quindi grande libidine emilton che continua ad avere il miglior tempo anche se c'è stato un momento in cui nel q1 è stato verstappen ad avere il miglior tempo poi bottas e poi emilton i piloti a rischio eliminazione per ora ma manca ancora un po di tempo sono norris undicesimo perez dodicesimo clamoroso rasse il tredicesimo ricciardo quattordicesimo e leclare quindicesimo e clamoroso sì questo q2 piloti escluso sono quelli che per più della metà non ti aspetti perché c'è perez undicesimo che quindi non potrà aiutare il suo compagno di squadra alla partenza del gran premio di oggi perché lui sarà lassù a sfidare le due mercedes e perez sarà laggiù in basso in sesta fila a cercare di recuperare il più presto possibile per andare a dare manforte al suo compagno di squadra al dodicesimo posto c'è abbastanza eclatante leclerc che non si qualifica con gomma rossa mentre il suo compagno di squadra con gomma gialla riesce a qualificarsi per il q2 q3 scusate in quattordicesima posizione c'è ricciardo e in quindicesima posizione russell che è l'unico pilota che teoricamente ci sta a essere lì è già tanta roba che è lì in quindicesima posizione questi invece sono i magnifici 10 per la pole position hamilton col miglior tempo in q2 quindi gasli alonso bestaffen bottas o con sunoda better norris e science appunto col decimo tempo ma si è qualificato con gomma gialla inizia il q3 andiamo a vedere come è andato perché a sette minuti e mezzo dalla fine del q3 la pole provvisoria di hamilton davanti a bottas norris sunoda o con e better quando ormai tutti i piloti si stavano rilanciando per l'ultimissimo giro il buon gasli ha pensato bene di forare proprio sulla sulla dirittura d'arrivo e quindi bandiera gialla per tutti tutti che devono alzare il piede qualcuno non l'ho alzato e l'han chiamato poi al ed era bestaffen science e forse bottas comunque tutti a prendere la romanzina dalla dai capi corse chiamiamoli così dai giudici di di gara perché c'era bandiera gialla perché appunto c'era il povero gasli che arrancava lentamente con la gomma bucata se non ero l'anteriore destra e quindi loro erano lanciati per fare l'ultimo giro e qualcuno non ha alzato il piede gli hanno chiamati in sala in sala corse per la ramanzina comunque dovendo tutti alzare il piede hamilton si prende la centoduesima pole position in carriera libidine tra l'altro hamilton essendo partito prima ha evitato le bandiere gialle ha fatto un super giro libidine andando sotto l'1 21 e si è preso la pole position però avrà domani al suo fianco bestaffen che col fatto che nessuno ha potuto migliorarsi lui si è migliorato ma bisognerà vedere se hanno se accetteranno il tempo ma poi cambiava poco perché comunque lui era secondo lo stesso anche senza quel miglioramento e quindi domani bestaffen qua di qua e hamilton di qua che partirà un attimino avanti no perché logicamente è il pole però attenzione alla prima curva crash il crash conviene sempre a a bestaffen nessuno dei due prende punti ma lui mantiene i 14 punti di vantaggio quindi attenzione a quello che può succedere domandi alla partenza detto questo ragazzoli vado a recuperare l'elenco della pole position perché ero convinto di essere me l'ho portata dietro e invece no l'ho lasciato nella camera non è un problema mi fermo un attimino ma comunque ripeto domani speriamo in me anzi oggi perché ormai è mezzanotte sanzi sono su quasi le due di notte e quindi oggi pomeriggio alle 15 ne vedremo delle belle speriamo in bene perché sarebbe bello un bel duello pari pari fino alla fine a giocarsi il primo posto non pronti via crash gara finita prego sotto gli altri e poi chiunque potrà vincere perché se i due galli non ci sono i topini ne approfittano e le galline ne approfittano le gallinelle coccodè i tassisti comunque mi stop un attimo vado a recuperare la listona ero convinto di essere me la portata dietro eccola qua la listona della griglia di partenza della gran premio di del quatar del quatar quindi a tre gare dalla fine del mondiale di formula 1 quindi può ancora succedere di tutto sappiamo che bestaffen a 14 punti di vantaggio su emilton sappiamo che stanno litigando su su tutto a guardare tu c'hai la cosa messa così e tu c'è la cosa messa cos'ha non ne vale chiamo chiamo subito la fia a controllarti assi tu chiami la fia a controllare me io mando la fia a controllare te perché hai messo a posto il drs non va bene come l'hai messo a posto mercedes e redbus si stanno facendo veramente la guerra l'una contro l'altra sulle minime cose comunque la griglia di partenza del gran premio del quatar vedrà in pole position in ball emilton affiancato dove sta in seconda fila abbiamo bottas e il buon gas lee che continua a dire che ha trovato nella torre rosso la sua macchina perfetta in red bull non riusciva ad essere così performante come nella torre rosso che la macchina inferiore sicuramente alla red bull ma che lui riesce a guidare divinamente bene in terza fila alonso e norris in quarta fila science su moda in quinta fila con e vettel in sesta clamoroso perez e stroll più perez che non stroll clamoroso ma ancora più clamoroso in settima fila leclerc con ricciardo in ottava il buon russell con raikkonen in donna latifi e giovinazzi e in decima big schumacher e mazza p quindi come al solito le due assi sono ultima e penultima o penultima e ultima che dir si voglia bene ragazzoli di ora a guagliato sulla formula 1 sulla situazione della pole position 102 esima per emilton e domani with the best vinca al migliore basta che non vi scontrate subito pronti via perché sarebbe veramente una tristezza detto questo ci vediamo alla prossima ciao